Perfetto, veniamo oggi a uno degli argomenti più interessanti, quello delle particles, particelle, e vediamo ad esempio, qui abbiamo un esempio di fontanella, questa è una fontana, e partiamo da questo esempio, vedete che la fontana sono delle particelle. Le particelle della fontana sono descritte da uno script, che troviamo internamente, a questo oggetto, eccolo qua, qui abbiamo un script particelle, e qui abbiamo questo script di cui adesso vedremo un po' i segreti, vedete che non è neanche troppo lungo, ma possiamo fare un po' di mestieri su questo signore. Però, visto che tutti questi codici, questi particolari, sono un po' complicate, io adesso userò Firestore per farvi vedere come impostare tutti quei parametri. Non è obbligatorio usare Firestore, però a scopo didattico è abbastanza interessante, perché con Firestore possiamo avere un prim, che è questo, e poi selezionando il prim e nell'opzione di build abbiamo possibilità di definire le particelle, edit particles, e qui abbiamo un intero mondo che ci si snoda, quindi qui vedete che già facendo così, lui vi fa vedere un esempio di particelle, cioè praticamente ogni 0,3 secondi emette 5 particelle, queste sono le prime importanti cose. Ora, quello che accade in realtà è che su Second Life, che sarebbe il papà di OpenSim, queste cose funzionano un pochino meglio, quindi vedete che non vengono emesse proprio 5 particelle ogni 0,3 secondi. Lo vediamo meglio se noi mettiamo ogni secondo e vediamo se veramente ci emette 5 particelle. Non è proprio così. Questo è un piccolo difetto, quindi lui ne emette tendenzialmente molte di meno, ma vedremo meglio insomma un po' come controllare. Comunque questo sistema di Firestorm ci permette, ti aiuta a vedere queste cose. Allora, la prima cosa da vedere è che le particelle, vedete che sono un po' scure, la prima cosa che si può fare è renderle luminose, quindi emissive. Allora, quando le particelle sono emissive, diventano un pochino, vedete che sono molto più luminose, poi magari ne mettiamo un pochino di più, ogni secondo ne facciamo emettere un pochino di più, non sono proprio 50, e vedete che queste particelle vengono esplose partendo dal nostro primo. Vengono esplose in tutte le direzioni, mentre invece molte volte si preferisce fare esplodere, cioè fare emettere particelle, ad esempio verso l'alto, l'alto sarebbe l'asse Z del vostro oggetto, nella modalità local, ok? Quindi questo è importante, locale, questo, ma di solito è quello in alto in pratica. Allora, per vedere le altre modalità che non è l'esplosione, vediamo la modalità angle cone, ok? L'angle cone permette di fare emettere le particelle tutte verso l'alto, o per meglio dire, lungo un cono. Allora, per vedere bene questo cono, mettiamoci parecchie particelle, tantine, e mettiamo soprattutto 0,01 in modo tale da emetterne tante, tante, tante. Allora, queste particelle, come vedete, vengono emesse tutte verso l'alto. Io, a lezione, avevo detto che si può, possono emettere le particelle lungo un cono, e il cono viene descritto da angolo iniziale e angolo finale. Quindi se qui gli metto, ad esempio, angolo iniziale 0,1 e angolo finale 0,1, vedete che le particelle diventano un po' coniche, no? Nel senso che vanno lungo un cono. Possiamo mettergli un cono un po' più ampio, quindi 0,3, questa è l'espressione di radianti, 0,3, e vedete che il cono si diventa un pochino più largo, diventa un cono più largo, in questo momento sta un po' scendendo, insomma, queste cose, però le particelle sono un po' grosse. Possiamo cambiare la dimensione delle particelle. Mettiamo, ad esempio, 0,04, 0,04, ok. Allora, avendo fatto così, vedete che le particelle si vedono distintamente, sono su un cono, vengono emesse lungo un cono. Ok? Allora, qua in realtà vedete che il cono è leggermente girato, questo è un difetto che a volte succede su Second Life, su OpenSIM, quindi eventualmente potete girare leggermente l'oggetto in modo tale da avere il cono nella direzione che vi interessa. Tanto l'oggetto che genera può essere anche trasparente, quindi non è detto che sia una cosa che si veda, serve solo per generare il cono. Quindi, come vedete, qui stiamo generando un cono di particelle in cui abbiamo le particelle che partono da una certa dimensione e possono eventualmente arrivare a un'altra dimensione, ma per il momento andiamo con calma. Quindi, sono sul cono, voi potete chiedermi, oltre all'esplosione, vediamo le stesse particelle esplose, e le particelle quando esplodono, esplodono tutto attorno al nostro oggetto. Bello! Se andiamo in angle cone, invece vanno su un angolo conico in alto. C'è un'altra possibilità, ma funziona leggermente peggio. Se facciamo angle, vedete che vengono emesse lungo un angolo piano, che di solito non si usa molto. Angle cone è quello che abbiamo visto, quindi l'angolo tridimensionale. Angle cone è empty, non fa un granché, diciamo, non funziona. Drop, invece le particelle vengono buttate in un certo punto. Quindi diciamo che explode e angle cone sono le nostre amici, per poter emettere queste particelle. Poi vediamo per chi di voi ha imprudence, in cosa si traduce questa cosa qua. Ma nel frattempo, andiamo avanti a esplorare tutte le varie possibilità che abbiamo. Allora, vedete che il cono parte da una certa altezza, quindi si può anche cambiare volendo la... dunque, dove è? Abbiamo la possibilità, radius si chiama, quindi qui a un certo punto c'è boost radius. Zero vuol dire che parte dal centro del nostro oggetto. Se noi qui gli mettiamo 0,5, le particelle, vedete che partono, cominciano, non attaccate all'oggetto, ma un pochino più su. Se gli mettiamo 1, vedete che partono un metro più su. Seguono sempre la struttura conica, ma vengono tagliate, quindi diventa una specie di tronco di cono. Quindi questo boost radius mi permette di controllare come vengono generate queste particelle. Torniamo, esplode, anche qua esplode, praticamente vengono generate a partire da un metro di distanza. Se gli mettiamo qua 10, le particelle vengono generate un po' più lontano. Vedete che vicino al cubo non ci sono particelle, a 10 metri di distanza cominciano a nascere queste particelle. Se vogliamo vedere meglio queste particelle, le possiamo dire che sono un po' grossine, ad esempio 4,4. Vedete che qui ho fatto una specie di nebbia, che però, di cupola, che avvolge, mi avvolge tutto attorno, a distanza di 4 metri. Vedete? Se qui il boost radius, anziché essere 10 metri, ho detto 4,6,10, se li mettiamo 0, la nebbia, questa cubola diventa una sfera, quindi io anche all'interno sono completamente dentro questa sfera, che è lunga un certo tot. Qui ho detto le lezioni, ctrl-p, si può controllare il numero di particelle che si vedono. Anche perché vedete che questo genera un po' di lag, quindi se noi andiamo nel graphics, a parte graphics, e qui gli diciamo che, vedete, max particle count, se non lo vedete c'è, appunto personalizza, su imprudence, potete ridurre il numero di particelle a 0, e vedete che togliete il lag, o se no aumentate un pochino le particelle, il massimo teorico è 8192, noi qua, ah, perché gli abbiamo messo burst count a 500, gli mettiamo magari 10, che è un po' più umano, e quindi qui mettiamo max particle count, e vediamo, quindi qui, se vedete che stiamo generando una specie di nebbia, è tutto questo, mettendo 1, vedete che viene generata praticamente una, un singolo particella per volta, e lunghezza 4, 4. Ora, queste particelle che vengono generate, vi ho detto, hanno una x e una y, quindi adesso sono tendenzialmente sferiche, però vedete, non è proprio sfera, perché sono x e y, quindi sono tutti bidimensionali, quindi la caratteristica di questi oggetti e che di queste particelle che sono bidimensionali, ma da qualunque punto io lo guardo, le vedo di fronte. Se gioco sulle dimensioni, che per inciso vanno da 4 cm a 4 m, quindi qui posso mettere, ad esempio, 0,04, che la, vedete, 0,04 x e 4 m in altezza, vengono generate le particelle filiformi, che a questo punto, girano più o meno come prima, però vanno, questo esempio può essere un effetto tipo pioggia, soprattutto se l'aumento, vedete, ok, qui vengono generate una serie di oggetti, queste, possono essere anche viceversa, quindi ad esempio, 4 m per 0,04, quindi filiformi orizzontali, e vedete che così, girandoci attorno, si vede il concetto, quindi si ottengono degli effetti particolari, però, prendiamo magari, degli oggetti un po' più normali, quindi 0,5, 0,5, che sono delle sferelle, tipo queste, a cui possiamo dare anche un colore, quindi possiamo dare, il, dunque qui c'è il colore, start color, e gli mettiamo, ad esempio possiamo mettergli rosse, vediamo un po' se ce la facciamo, rosso, non viola, questo sarebbe viola, se no prendiamo proprio il rosso, rosso, ok, vedete che le particelle diventano rosse, ora, una delle caratteristiche di queste particelle, è che, tra l'altro notate che se io tolgo le missive, diventano, in realtà riflettono ciò che c'è attorno, quindi di solito si usa le missive, per averle belle, luminose, però, una cosa caratteristica delle particelle, è la possibilità di far evolvere le particelle, dal momento in cui nascono, al momento in cui muoiono, e ad esempio si può cambiare il colore, ad esempio si può dire interpolate color, qui se io dico interpolate color, abbiamo un end color, allora l'end color vedete che inizia rosso e finisce bianco, e si ottiene questo bel effetto, se io voglio che inizi rosso e termini ad esempio verde, abbiamo questo altro effetto, quindi si può fare tutti i gradienti fra un colore ed un altro, semplicemente avendogli detto interpolate color, se tolgo interpolate color, rimane soltanto il colore di partenza, posso fare un mestiere analogo anche per l'interpolate scale, emissive, interpolate scale, e quindi farle partire da una dimensione iniziale di 0,5 ad esempio, e farle arrivare a una dimensione di 0,04, quindi queste sono delle palline che man mano che si allontano non si rimpiccioliscono, quindi al limite possono partire molto grosse e diventare molto piccole, se sono troppo grosse qui non si vede l'effetto, no, però vedete, ecco, questo qui potrebbe essere ad esempio una specie di sole, vedete che le possibilità di queste particelle sono infinite, e qui con Firestorm in particolare si riesce a controllare, e sperimentare che cosa succede. Andiamo da 0,5, 0,5, oppure si possono fare anche che partono 0,04, 4, e arrivano a 4, 0,04, questo è un altro effetto interessante, in cui partono verticale e poi tendono a diventare orizzontali, man mano. quindi c'è tutto questo giro, 0,5, 0,5, vedete, e che poi diventano 0,04, 0,04, ok, quindi partono un pochino grandi e terminano piccole, e magari con il famoso interpolate color che gli ho messo prima. Ora, questo è il tipo esplosione, possiamo tornare al nostro angle cone, quindi vedete che vengono emesse lungo un cono verso l'alto, e vedete che questo cono ha una certa altezza. Come si fa a cambiare l'altezza del cono? si può cambiare l'età delle particelle, quindi anziché essere 5 secondi, le particelle possono durare non 5 secondi, ma 10 secondi. Allora, facendo in questo modo, il cono vedrete che si allunga, diventa il doppio di prima, diventa più alto, perché le particelle vivono di più. E quindi si può fare questo cono più ampio. E questo è ParticlesMaxAge. Se le metto invece che durano solo un secondo, il cono sarà piccolissimo, e quindi fa un effetto tipo focherello, perché durano poco. Addirittura se la edge è piccolissima, quindi 0,01, saranno praticamente dei lampi. Lo mettiamo magari qua, ecco vedete, se durano pochissimo, vanno via immediatamente, quindi appaiono semplicemente come dei lampi. Quindi questo è anche un effetto interessante, perché si può, si possono avere dei lampi, così. Allora, vedete che si ottiene un effetto tipo pioggia, salvo che forse il colore non è il massimo, quindi possiamo fare Start Color. Ecco, questo qui è già un pochino tipo pioggia. Quindi le particelle appaiono tipo gocce di pioggia. e magari gli mettiamo anche la dovrebbe esserci anche Start Alpha, End Alpha, vuol dire che se l'Alpha lo mettiamo a 0, vedete, l'Alpha serve la trasparenza, quindi iniziano con una trasparenza bassa, cioè appare, e poi svaniscono man mano. qui per capire bene l'effetto si può mettere che invece di durare soltanto un centesimo di secondo, gli mettiamo uno, un secondo, quindi vedete che tendono poi a svanire e si ottiene questo effetto di queste particelle attorno al nostro cubo. ma adesso torniamo a delle particelle un pochino più normale, quindi facciamo 0,5, 0,5, ok, quindi queste particelle che vedete che vengono emesse e vaggiano un po' verso l'alto piuttosto che esplodono tutto attorno, una cosa importante delle particelle è che volendo si può mettere una texture vostra, quindi se voi avete una texture tipo foglie, la foglia è questa, vedete che il posto di comparire delle sferelle compaiono le nostre fogline, questo si chiama spoofer ed è interessante possiamo anche qui farlo comparire sopra, abbiamo messo il raggio 0, vedete che qui duravano poco, la max edge gli mettiamo 5, ritorniamo, vedete che qui vengono generate queste particelle, volendo si può fare, vediamo un po' se lo riusciamo a fare un drop, no, non se la facciamo fare, ah si no, il drop in realtà ci sarebbe, per vedere il drop dobbiamo mettere trasparente il nostro oggetto, quindi gli mettiamo trasparenza 100, e vedete che il drop vuol dire che la particella viene semplicemente buttata, no, buttata senza evoluzione, qui eventualmente essendo buttato viene buttato proprio nell'origine, o poco sopra, o poco sotto, comunque qui abbiamo il, vabbè, qui in questo caso quando si usano delle immagini, meglio mettere start color bianco e bianco, a meno che non si voglia vedere la nostra foglia, diciamo, scurirsi, però insomma, questo è l'effetto ok, poi, qui potete ovviamente cambiare la scala della vostra texture, vedete che, poi magari appunto la texture nasce in un certo modo, vedete che cambia leggermente la sua scala, perché vi ho detto interpolate scale, se non gli diciamo l'interpolazione della scala, lui rimane lì, quindi, qui possiamo fare che, risparmiamo, quindi facciamo che ogni secondo venga emessa, in realtà non va bene, facciamo 0,5, neanche, 0,1, ok, ok, quindi così avete la possibilità di far vedere anche delle specie di immagini che si vedono, questo può essere interessante per fare anche dei cartelli, insomma, qui le possibilità, vi ho detto, sono enormi, torniamo alla nostra esplosione di oggetti, quindi, 100, la texture, gli mettiamo una default texture, che sarebbe questa, ok, gli mettiamo 0,5, 0,5, ok, mettiamo 10, notate che se ne mettiamo tantissime texture, diventa una specie di nebbiolina, 100, alcune di queste caratteristiche non sono implementate su OpenSim, tipo il blend, questa cosa qua, però, una cosa incredibile che possiamo fare è possiamo controllare se le particelle sono soggette ad accelerazione, accelerazione vuol dire ad esempio se sentono la gravità, allora, sentono la gravità vuol dire che una volta emesse e poi possono cadere, quindi, questo lo si ottiene mettendo un'accelerazione negativa, quindi, se noi mettiamo, vedete, se gli mettiamo un'accelerazione negativa, le particelle cadono e quindi otteniamo questo effetto tipo gravità, verso il basso oppure possiamo mettergli anche un'accelerazione positiva, quindi le particelle in realtà vengono accelerate verso l'alto piuttosto che anche accelerate anche verso una direzione, 0,5 e accelerate e verso l'alto e verso una direzione, vedete che girano in questo senso, quindi tipo cometa di alle, volendo, possiamo fare, quindi l'accelerazione mettiamo questo tipo di accelerazione verticale che è bellino e poi abbiamo una serie di altre cosine interessante che ad esempio se noi abilitiamo wind allora le particelle sentono il vento della sim vedete che ogni sim in open sim c'è una specie di vento quindi dire wind vuol dire che vedete che il modo in cui girano vedete che varia di momento in momento e questo è molto molto interessante ah poi le particelle possono avere una loro velocità iniziale quindi se io dico che le particelle hanno velocità iniziale 0 le particelle subiscono soltanto la forza angle cone subiscono soltanto la forza ecco vedete qui subiscono soltanto il vento che abbiamo messo e la forza di gravità o antigravità in questo caso qua vediamo che vado verso il basso meno 0,5 e così cadono cadono seguendo il vento poi se gli si chiamano follow source vuol dire che man mano che noi control 3 questo è il nostro oggetto mettiamo un pochino meno trasparente così vediamo vedete il cubo questo possiamo selezionarlo facendo così vedete che seguono fedelmente la mia source se gli dico che non seguono la source praticamente vedete che spostandolo non quindi sono tutta serie di follow velocity anche interessante questo in realtà seguono praticamente la velocità quindi se l'oggetto si muove potete ottenere degli effetti interessanti torniamo al vedete qui sta seguendo il vento che cambia quindi torniamo follow wind così non seguono più il vento e qui diciamo che 0 quindi rimangono lì però diciamo che hanno una certa velocità di partenza 0,5 minimo e massimo quindi potete dargli anche un po' di casualità quindi potete dire che partono tra ad esempio con partenza compresa fra 0,1 e 0,5 e si attiene praticamente un effetto randomico cioè un effetto non proprio scontatissimo questo è molto importante l'omega qua dice come può essere usato per far ruotare la sorgente delle particelle praticamente viene utilizzata una specie di roba che ruota però si vede poco quindi non lo non lo esploreremo a lungo comunque tutto questo discorso serve per dirvi che dato una particella quindi voi prendete ad esempio questa se avete firestone potete anche fare questo inject facendo l'inject lo script viene messo dentro l'oggetto e poi però bisogna fare togliere le parti che non funzionano queste parti blend sono solo il second life e non funzionano togliamo anche questo ok quindi così vediamo facciamo save ah no anche il glow bisogna togliere quindi glow questo e vedete che quindi abbiamo lo script vero e proprio se invece non avete firestone dovete partire da uno script iniziale quindi dovete partire da uno degli script che io accludo per esempio anche questo e poi andare a con imprudence potete andare a modificare le caratteristiche che abbiamo visto prima quindi esempio angle begin angle end questo qui potete mettere 0.1 0.1 per tenere un cono un po' più stretto ecco e potete poi cambiare tutte le altre cose quindi la scala quindi anziché partire da 0.5 che diminuisce da 0.04 potete mettere mettere il ah sì vedete che qui ci sono tutta una serie di cose allora c'è da dire che se non non avete firestone quindi avete difficoltà a generare questo script da soli ci sono dei siti web da cui potete scaricarli potete fare un mestiere tipo quello di firestone adesso vediamo un attimo alcuni di questi siti 1 ecco questo qui come vedete è uno script particles lsl generator in pratica potete controllare la texture il glow che non era quello sbagliato ma era il permissive quindi potete dire se è glowing se dovete interpolare il colore partendo da bianco e qui praticamente vi fa vedere che colore è quindi 110 è giallo e qui se gli mettete invece 101 è viola quindi partendo da giallo arriva il viola e poi potete vedere che parte da 0,04 arriva a 4,4 e vi dice anche i valori minimi massimi potete dirgli se volete che faccia l'angolo cone ad esempio e qui fa vedere appunto l'angolo quindi se qui gli mettete 0,1 ah qui ecco vi permette di esprimere l'angolo in gradi normali anziché radianti quindi se mettete che l'angolo parte da 10 gradi e finisce a 20 gradi lui lo trasforma la velocità l'accelerazione che è quella che permetteva di mandare verso il basso la rotazione e poi tutti quegli altri effetti che abbiamo visti potete vedere il rate cioè ogni quanto viene esploso quindi diciamo che ogni 0,01 1 quanto durano le quanto durano le particelle diciamo che durano 10 qui vi fa il conteggio le particelle e se è rossa vuol dire che ne generate troppe quindi magari dovete ridurre quindi anziché 50 mettete 5 sono ancora troppe diciamo le mettete 0,01 ok quindi vedete questo sistema vi dice che è bello 0 questo è la lunghezza del sistema quanto dura generate script e vi genera uno script che a questo punto potete fare ctrl a selezionare tutto ctrl c andare nel vostro mondo questo e qui tasto destro modifica contenuto nuovo script e qui gli mettete lo script che vi ha generato il vostro amico save e vedete che viene ottenuto eccolo qua l'effetto così come era stato costruito in questo sito ora maneggiare degnamente le particelle non è banale si possono ottenere effetti fantastici ma anche brutte cose però spero di avervi dato un'idea meno elementare di quali sono le cose più importanti quindi il concetto che le particelle vengono emesse vengono emesse in una certa direzione su un certo cono ad esempio possono andare su e tornare giusto l'effetto della gravità possono seguire il vento possono ampliarsi diminuire ingrandirsi via discorrendo insomma possono fare tantissimissimi effetti e con questo credo di per questo video di aver terminato quindi ci sentiamo la prossima volta